In una giornata, in una sola giornata, sotto l'ombrellone questo libro può essere letto, prezzato, amato, ricordato per il resto della vita. Naturalmente se si accuore la storia del calcio, del nostro calcio, quello italiano doc. Ebbene a 40 anni di distanza questo lavoro serve non solo a soleticare la memoria sull'immensa vittoria del mondiale di Spagna. Vittorio Sermonti, con un lavoro da vero e proprio ricercatore, ci regala un piccolo gioiello editoriale dove le narrazioni si concentrano certamente sul calcio, ma anche sull'Italia e gli italiani che hanno vissuto con l'evento sportivo memorabile. Insomma, in definitiva un libro imperdibile.